musica 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 ok tutto impastare come se fosse pane non c'è niente tirati con le mani io faccio così musica non c'è niente ok musica 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 allora macin musica a raggiungere la nati lancò questa SM musica 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 Quindi adesso noi li smaltiamo, poi li li facciamo, perché solo in forno viene l'effetto lucido. Non è una bibita, attenzione eh Giulia, mescolare per bene. Mescolare per bene. Hai mai mani? Sì, solo le cose qui. Aspetta Manu, raccogliamoli un uoio quando le diamo. E aspettate un po' che si asciutta. Io ti puoi scegliere sono tuoi. No, non li puoi fare, ti puoi scegliere. 20 secondi contati veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Tirare su, mettila orizzontale, sempre qui così se cola del colore cola dentro il nostro. No, tienila pure. Ha spiegato forte. Ha venuto via la tua menina in forma. Aspettiamo un attimo. Facciamo asciugare il colore. Poi delicatamente. No, faccia anch'io. Primo. Poi non dimenticare il zoop. di nuovo 20 secondi veloci aprile, chiudile, stringi forte bravissima, ce l'hai bello forte in mano? no, ti aiuto io, io metto le mie mani sopra le tue mani si, brava, bravissima, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20 bravissima, allora, brava Sara ok Luca, ce n'è qualcuno che non è venuta bene, ma pochi vero? pochi il numero rosso e blu la meia numero di Mattia destro devi fare un disegno Giulia che stia dentro bene, dopo lo rifacciamo, ma con i pennelli dentro, ok? ok, anche tu dopo lo scrivi, eh Sara? ah bene, pezza cantadina comodoro, mozzarella, cipolla, cunghi, salsiccia bene, cortelloni, cortelloni, con la panna con la panna non è che mi dico, cipolla, cipolla sei... come si, vedi, giardà come chi? no, cipolla si non è che eventualmente, topic sempre per che quantità sono proprio sticc Grazie a tutti. Grazie a tutti.